ben tornati in diretta con buongiorno weekend è l'ora del caffè in effetti e quindi prendiamoci giusto un caffè con vediamo insieme con chi iscriviti al nostro canale Poliedrica, esplosiva Numa, buongiorno Martina che bello rivederti è vero sei bella, brava e conduci una trasmissione che mi piace tantissimo e addirittura grazie Numa intanto è un piacere per me, è un onore averti qui a Spita Buongiorno Weekend perché la vita è strana in effetti la vita ci aveva già fatto incontrare ma molto disfuggita così velocemente in un altro contesto e poi per quelle casualità della vita che non esistono, infatti ne voglio parlare proprio con te per la vita insomma poi ci siamo ritrovate qui a Buongiorno Weekend per le belle risonanze sai vuol dire che c'era un filo rosso che ci doveva portare a conoscerci meglio un filo rosa tra l'altro perfettamente in stile Buongiorno Weekend quindi è perfetto allora Numa intanto grazie per essere qui benvenuta a Giusto un caffè perché questa è la rubrica Giusto un caffè che mi impone di chiederti questo buongiorno Numa, benvenuta a Buongiorno Weekend e lei che caffè si sente? sicuramente come diceva la bravissima Mannoia io sono un caffè nero bollente aggiungiamo però con tanto, tanto, tanto zucchero quindi perché caffè nero mi fa pensare a una donna forte perché è forte, esatto, forte, resiliente, grintoso bollente perché io sono, innanzitutto io amo il caldo adoro il caldo, ho un problema serio con il freddo sono freddolosissima e mi sento sempre così piena di energia e di passione che sicuramente è bollente e dolcissimo perché adoro tutto ciò che è dolce anche se a livello di dieta non è una cosa corretta ma vabbè, vabbè posso impazzire, adoro tutto quello che è dolce e perché dicono che sono dolce anche io è vero, è vero lo sappiamo bene che sei dolce perché la tua vita in effetti è straordinaria oggi parleremo con te un po' della tua vita, della tua carriera e anche di questo potere che ha la musica perché spesso lo sottovalutiamo forse non ne siamo completamente consapevoli perché la musica lo sappiamo che è la colonna sonora della nostra vita e sappiamo quanto ci emoziona ci si innamora, ci si sposa è la nostra colonna sonora quando viaggiamo ci fa compagnia quando siamo soli a casa quando lavoriamo, la musica c'è sempre e poi la musica c'è sempre nei secoli nel senso che in tutte le sue forme è questa espressione dell'anima oltre che artistica ma sicuramente emozionale dell'essere umano da sempre anche ai tempi tribali perché a volte non capiamo fino a che punto è importante perché è consuetudine perché fa parte di noi e non ci accorgiamo quanto sia ipnotica e quanto possa quindi modificare le nostre cellule e quindi anche collaborare con la nostra genetica quasi e dobbiamo un pochino stare attenti quindi a che musica ascoltiamo e che introiettiamo che percepiamo che facciamo proprio fondere dentro proprio vibrazionalmente chimicamente dentro di noi perché può apportare dei cambiamenti estremamente positivi e potenzianti o fare anche qualche cosa che non ci piace ma non ce ne accorgiamo infatti la mia faccia era un po' tra lo stupito e il perplesso perché alcune volte non ci rendiamo conto che probabilmente stiamo sai che la famosa canzone che ho sentito e ti rimane in testa in realtà agisce come un mantra esatto è assolutamente un mantra la musica è un mantra il testo è un mantra quindi è tanto importante cosa vogliamo cantare quindi vogliamo ripetere mantricamente a volte anche inconsciamente perché è qualche cosa che ci entra dentro sai mi si è appiccicata quella canzone l'avete mai detto? spesso no? mi entra in testa e non esce più da una parte è una cosa molto bella soprattutto gratificante per chi l'ha scritta oppure perché è una frase che ci risuona profondamente attenzione però che cosa stiamo ripetendo cento milioni di volte non ce ne accorgiamo ma proprio migliaia di volte nella testa cantandola immaginandola percependola vibrandola perché poi diventa la nostra credenza proprio la nostra credenza e quindi poi diventa la nostra verità e quando diventa la nostra credenza la nostra verità sarà ciò che noi proiettiamo concretamente poi nel nostro 3D cioè ovvero nella nostra vita perciò mi hai lasciato mi hai spezzato il cuore mi hai distrutta da quel giorno non sono più io e poi il baratro e tu è vero possiamo anche come dire verbalizzarlo perché anche quello serve perché la consapevolezza è fondamentale ma poi dopo di che dovremmo veramente scegliere un'altra canzone ascoltiamola e poi lasciamo andare e magari cercare dentro di noi un altro mantra che ci dia invece quella forza di ricominciare di cambiare di svoltare di rinascere di rimetterci in piedi che ci sono tantissime esistono tantissime canzoni bellissime che ci incoraggiano in tal senso assolutamente e poi vorrei dire qualcosa anche magari un po' più giovani quando a volte sono al semafono e sento mi affianco queste macchinine tutte tutte chiuse e poi sento aspetta te rivedi io sono un'ex ballerina quindi andavo come tutti voi tipo al passare il mattino ieri ragazzi stavate parlando con una che con i nostri ragazzi a casa mia le porte proprio fanno così perciò non state parlando con una che non vi capisce tutt'altro però sto attento a cosa fa perché poi senti è perché la parola ma non perché per carità ragazzi sto facendo un discorso morale sto facendo un discorso proprio di salute mentale non fa troppo bene perché se non uscite da quella macchina andate a dare la bottiglia in testa a qualcuno lo dico sinceramente ed è gravissimo perché siete stati caricati a pallettone di qualcosa che vi fa malissimo ci sono gli esperimenti scientifici dove proprio sono test kinesologici sono test proprio energetici dove tu metti ti metti in una posizione voglio dire bilanciata ti ascolti metti un braccio è un esperimento molto conosciuto magari per qualcuno non lo sa ma molti lo conoscono io ti faccio ascoltare un brano che non ti potenzia che magari è pieno di rabbia o di sentimenti comunque ripeto non elevati non positivi e se ti faccio fare l'esercizio della forza della resistenza del tuo braccio chiaramente non devi pensare adesso devi collaborare quindi di fare questo esperimento con chi ti fa questo test ti accorgi che il braccio perde la sua potenza quindi il tuo corpo è debole la tua volontà è debole la tua biologia la tua energia vitale si indebolisce perché tu stai ascoltando qualcosa che ti toglie la gioia ti toglie la forza poi posso dirti una cosa molto importante a volte pensiamo che ascoltare delle cose nei brani particolarmente rabbiosi o grintosi però sempre con quella sempre però con quell'energia un po' cupa un po' sinistra che noi magari diciamo ma sa sto brano quanto è figo perché è dark perché è cool perché è strong buoni ragazzi non potete capire che cosa fa a livello interiore in quanto quando toglie la gioia noi pensiamo che la rabbia sia tanto quanto un fortificante mi è mai capitato che essere arrabbiati quasi quasi è anche meglio di essere tranquilli perché vi sentite l'adrenalina quindi vi sentite capaci di vincere il mondo di spaccare tutto perché così adesso a questo punto farò giustizia nella mia vita niente di peggiore perché non c'è la saggezza non c'è il vostro gps mentale se stretto tanto quanto perché quel tipo di energia non è un'energia espansiva quindi non vi dà la possibilità di vedere le soluzioni a 360 gradi con quella saggezza e quella calma che vi permette di fare le scelte più grandi più importanti per voi quindi andate tipo a riedere sfondamento con quel tipo di rabbia con quel tipo di grinta illusoria e le fate veramente il danno a voi e agli altri perciò la musica è fondamentale la musica è fondamentale questa rabbia giusto caffè è un momento un po' intimo rispetto a veramente prendere il caffè come facciamo con degli amici rispetto a questa rabbia acqua sì perché il caffè abbiamo scoperto che in realtà è intollerante quindi Numa è un caffè forte e bollente l'abbiamo capito bene molto dolce però in realtà è intollerante quindi eh vabbè succede nella vita anche quello adoro tu sai che io vado ad odorare il caffè degli amici è certo ci credo quindi tutta questa energia che vedete in Numa in realtà ha radici molto profonde e sicuramente questa rabbia di cui parlava di cui hai parlato prima ma insomma nasce e l'hai testata anche tu forse sulla tua vita perché in effetti non tutti sanno che Numa vabbè intanto è autrice produttrice cantante di diversi brani di successo e lo fai con questa energia esplosiva che vediamo però il tuo passato che ragazzina era Numa ha provato rabbia da piccola dunque io devo dire userò un termine che potrà sembrare molto drammatico ma vorrei dirlo per la massima sincerità per capire poi quanto si può trasformare quello che a volte è una paura un dolore io più che la rabbia ho sperimentato la disperazione che è qualcosa che è un termine importante forte da ascoltare anche soprattutto televisivamente quando non c'è tanto tempo proprio di spiegare cosa c'è da questa parola molto importante perché quando ero più piccola sono sempre nata così mi ricordo anche dalle fotografie che vedi di una ragazza sempre con il sorriso e con una voglia immensa di comunicare con una grande empatia naturale che quindi mi dava questa capacità all'epoca non neanche ancora consapevolizzata di sentire le persone come se fossi io stessa quindi guardare negli occhi anche un perfetto e strano e percepire profondamente quale fosse la sua emozione o addirittura il suo dramma o anche perché non anche la sua felicità non dobbiamo solo parlare in senso così una empatia molto forte quindi cosa succede che quando non hai filtri e ancora devi crescere e trovare gli strumenti per gestire una cosa che poi è un dono può essere overwhelming se dice in inglese cioè qualcosa che ti può far soffrire troppo si diceva la ragazza è ipersensibile ma la ragazza non era ipersensibile la ragazza percepiva tutto e doveva ancora capire come gestire tutto quello che sentiva per esempio il tuo dolore è il mio la tua la tua storia era ed è la mia tant'è vero che poi come ho usato tutto questo come l'ho trasformato cantando scrivendo raccontando una energia creativa proprio raccontando la tua storia magari proponendoti una soluzione empatica come dire stai soffrendo per amore chi ti può capire più di me e allora cosa facciamo con questo dolore facciamo facciamolo un'esperienza facciamolo una grande rinascita facciamo una grande trasformazione una grande gioia che chiaramente dovrà attraversare un percorso facciamolo insieme ti prendo per mano allora ho pensato come posso prendere per mano più anime possibili più persone possibili cantando la mia vita e la loro vita con lo stesso amore e con la stessa empatia quindi come bambina sono stata sì e sono tutt'oggi estremamente solare ma quasi in contraddizione da quello che ti dico anche una ragazza che ha sofferto tantissimo io avevo attacchi di panico avevo disturbi alimentari perché non avevo ancora gli strumenti per trovare capito per trovare un equilibrio e trovare pace in tutta questa diciamo emozioni che il mondo sentivo che il mondo in qualche maniera mi soverchiasse non cercare le parole corrette per esempio mi faceva soffrire moltissimo vedere come trattavano gli animali già da piccola era una cosa che mi devastava e tutt'oggi mi devasta sono sincera tu sei cresciuta con un leone ragazzi è una delle pochissime in realtà in quegli anni andava diciamo anni in particolari però chi meglio di lei può dire effettivamente di aver dormito con un leone dormito con un leone e cresciuta con un leone cagani, gatti gracule pappagalli spesso metto nei miei videoclip lo faccio io ho delle piccole regole mie proprio etiche del messaggio che voglio mandare costantemente in tutti i miei videoclip sono delle ricorrenze fatte apposta con il mio regista ci mettiamo d'accordo facciamo così affinché questo messaggio veramente arrivi sincero spessissimo troverete animali liberi nei miei i più disparati il tacchino cerco anche quelli un po' meno capito quelli un po' meno fighi come si suol dire che per me sono tutti meravigliosi il tacchino il coniglietto che è stupendo che è meraviglioso la capretta la mucca il maialino perché perché non ci sono vite di serie il messaggio è amiamo questa natura meravigliosa che abbiamo perché ci dà un nutrimento così potente che se proviamo ad abbracciare gli animali non solo il nostro cane che io ne ho quattro ho quattro gatti a casa cioè quindi provate ad abbracciarli la guarigione dell'anima immediata musica animali amore perché fortunatamente consapevolezza perdono esatto perdono perdono perché in effetti se abbiamo parlato di questa bambina un po' rabbiosa è inevitabile che addolorata addolorata esatto sono sincera la rabbia forse era questa la ragione per la quale all'epoca non sapevo riuscivo a difendermi perché non ho mai io non reagisco mai con rabbia io caso mai soffro mi chiudo mi chiudo mi ferisco mi sento questo dolore mi sento ferita crescendo più che essere vittima di me stessa o di questo diciamo mondo difficile a volte diciamo mondo crudele il mondo non è necessariamente crudele è a seconda di come lo vogliamo leggere noi e come vogliamo camminare in questo mondo in che maniera ci vogliamo proporre a noi stessi prima di tutti e agli altri è chiaro lo vediamo che ci sono delle cose terribili in questo in questo pianeta ma quante cose meravigliose ci sono quante cose meravigliose come la tua carriera piena di personaggi famosissimi mi viene in mente il primo Renato Zero perché in effetti tu sei cresciuta effettivamente con lui mamma e papà papà lavorava nel mondo della discografia importantissimo produttore musicale e quindi sei cresciuta insieme intanto vedendolo in un vinile meraviglioso innamorandoti di Renato Zero ma poi è diventato tuo amico esatto mi piace dire proprio lo voglio dire proprio con l'umiltà nel cuore è stato il mio il mio grande mentore il mio principio azzurro il mio grande amore è un amore sai quando sei proprio innamorata profondamente del tuo principe azzurro che in questo caso Renato è stato chiaramente per milioni di persone era stato anche per me quando ero piccola dovete capire che erano altri tempi questo dovete anche un po' capire perché oggi diciamo che fortunatamente c'è anche più espressività artistica quindi ecco sono la prova provata ragazzi tenete presente che io però ero così pure 30 anni fa che era un pochino più tosto perché adesso voglio dire finalmente ci si esprime ci si mette e certo invece 30 anni fa era un po' più difficile essere perché adesso arriva lo stilista stupendo fighissimo e ti veste vada l'artista giovanissimo dice allora a te neanche una cosa sua a te ti vedo così e creano il look e ragazzi ripeto fate benissimo perché il look fa parte è un aiuto però 30-40 anni fa e Renato qualche anno ancora prima all'epoca uscire di casa come usciva lui e come uscivo io a mezzogiorno alle 8 che sembrava veramente no Sanremo sembrava non voglio dire carnevale perché non è giusto proprio sembrava la notte degli Oscars che prima è più bello dire insomma sai cosa succedeva all'epoca mia che i miei compagni di scuola mi aspettavano fuori casa per menarmi ecco questo succedeva all'epoca perché la diversità era vista proprio come una cosa di cui avere paura è qui da sopprimere perché tu sei diverso quindi chi sei se è pericoloso non ti conosco quindi la gente come me come Renato e dopo di che me all'epoca se la siamo vista brutta a essere noi stessi fino in fondo e volerci esprimere quindi il look è il disegno dell'anima Renato per me è stato un mentore io anche in questo certo andavo magari a scuola e cominciavo a scrivere temi infiniti su quello che erano le canzoni di Renato che ovviamente facevano la risonanza a quello che poteva essere la mia visione della vita quando si commentano pensa che sogno che gioia che fortuna che era anche un grande amico dei miei genitori e quindi avere avuto la possibilità poi di incontrarlo ma guarda tappe neanche tramite i miei genitori perché la vita la vita è fantasia è un destino che vedi che proprio che ti conduce e che tu devi essere capace di interpretare e mi sono trovata ragazza a fonopoli e poi mi sono ritrovata e poi mi ha presentato mio marito e poi mi sono ritrovata a lavorare con lui da adulta la fiducia che quest'uomo ha riposto in me dopo tantissimi anni di potermi concedere anche di poter collaborare con lui che sapete che significa per me avere imparato a lavorare bene e soprattutto dal più grande in assoluto e quindi mettere nel mio bagaglio è un'esperienza incredibile il tempo corre e non si arresta un'ora intanto volevo ringraziare il tuo fans club che ha scritto non è davvero un artista a 360 gradi i suoi video sono bellissimi e pensati da lei quando potremo ascoltare e vedere un tuo nuovo brano un abbraccio saura e da tutto il luma official fans club quando possiamo ascoltare presto presto ragazzi anzi grazie per questa domanda perché così posso annunciare che a fine aprile uscirò con un brano sempre dei miei super fantasiosi super che vi faranno sognare vi porteranno che vi porteranno io voglio che vi ispirino a realizzare i vostri desideri i vostri sogni avrò lo posso dire ufficialmente un pattern d'eccezione che è Moreno Porcuc che è il grandissimo balenino di Balando con le stelle mio partner anche insieme a Gianna Simonte al mio videoclip baciami io intanto vi dico queste cose così andate cercatele su Instagram internet e YouTube anche il videoclip era divertentissimo bellissimo abbiamo visto un pezzettino e Moreno mi affianca anche in questo brano di cui prestissimo vi rivelerò il titolo ma sappiate che dal titolo capirete tutto il programma dove vi voglio portare questa volta vi porto lontano vi faccio volare anche perché adesso abbiamo capito il potere della musica e quindi siamo certi che quella che suona e performa esatto Numa è sicuramente una musica energetica forte che veicolo di forti emozioni potente mi chiamano la cantante del self empowerment ed è un bellissimo è un bellissimo modo di essere chiamata self empowerment innanzitutto ragazzi non vi preoccupate perché la verità che fa paura questa parola vuol dire assolutamente l'autorealizzazione ma nel senso più bello del termine nel senso di trovare di sentire dentro di noi il potenziale quello perfetto per essere quello che abbiamo sempre sognato di essere che meraviglia Bruno Dallemarche ci scrive fantastica Numa una voce meravigliosa le sue canzoni hanno significato per l'anima e per il cuore la musica con lei riesce a scatenarti dentro emozioni indescrivibili per non parlare poi della sua umanità umiltà e solarità che abbiamo avuto l'onore di conoscere anche di persona e di vedere qui a Buongiorno Weekend Numa con te che sei così esplosiva dovremmo fare tre puntate di Giusto un Caffè non ne basterebbe una è una promessa e una minaccia dai è una minaccia è una promessa va benissimo anche perché dobbiamo capire ancora di più perché non esistono le coincidenze quindi questo filo rosso che ci unisce che unisce più varie persone lo dobbiamo approfondire Martina ma chiediamo al tuo pubblico meraviglioso ma sentite mi fa piacere se un giorno torniamo in mattina e vi raccontiamo veramente come funziona quantisticamente che parola che vi sto a dare la nostra vita cioè come riusciamo a portare su questa dimensione tutti i nostri sogni i nostri obiettivi come realizzarli e come funziona la nostra mente per farla diventare potentissima chiaramente se parla con il cuore che bello grazie Numa alla prossima quindi volta alla prossima ragazzi è fatta è firmata è firmata dove deve ritornare scrivete dite se vi fa piacere così sarà un piacere dirvi di sì grazie ancora Numa grazie io ringrazio ancora tutti voi anche per gli auguri perché mi hanno poi scritto anche gli auguri andi da caserta quindi grazie Pier mi unisco agli auguri tanti tanti auguri grazie anche a Ottavio da Genova e a tutti voi insomma per l'affetto che ogni volta regalate a me a Buongiorno Weekend ringrazio infinitamente la squadra di Buongiorno Weekend per la sorpresa per l'affetto per l'amicizia per la professionalità quindi oggi in regia Daniele Petrosemono in assistenza a Beatrice Mazzoni Ivano di Gianvito in assistenza e c'è anche il nostro Lorenzo Fantini adesso è arrivata anche Alessandra dei social quindi la saluto così e ci rivediamo ovviamente puntuali domani perché c'è una nuova puntata di Buongiorno Weekend ciao ci vediamo buon sabato buon sabato Grazie a tutti.